Siamo qui per dire basta alla violenza sulle donne. Dall'inizio dell'anno sono state uccise 99 donne qui in Italia. E noi siamo qui oggi, tante donne e tanti uomini, per dire basta. Basta! Basta! Violenza sulle donne! Basta! Basta! Violenza sulle donne! Basta! 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 Le donne, le ragazze, tutte quante, non devono prescindere dal rispetto della propria persona, dal rispetto fisico, intellettuale, psichico e psicologico. Bisogna rinunciare e denunciare e allontanarsi da qualsiasi situazione di violenza ci possa essere all'interno di ogni singola relazione. Adesso basta! Questo chiediamo! Pretendiamo tutela reale per le donne anche dentro le case. Aiuti economici immediati anche vittima di violenza familiare. Servizi mirati alla persona. Supporto anche psicologico e dei servizi sociali. Un'istituzione della presa in carico da parte dei servizi per l'uomo violento, maltrattante, abusante, con un programma di cura obbligatorio. Alloggio alternativi per chi vive in situazione di violenza familiare. Procedure legali veloci per liberarsi dalla violenza di mariti, compagni, ex-mariti o ex-compagni spesso troppo violenti. Supporto alle donne sole contro la violenza domestica. Non ci serve un altro inasprimento delle pene per chi picchia e uccide le donne. Vogliamo che le donne non muoiano e non vengano mai più picchiate. Basta! Giù le mani dai nostri corpi! Giù le mani dai nostri corpi! Giù le mani dai nostri corpi! Stasera eravamo anche incappucciate per dare solidarietà alle Pussy Riot. ragazze che giovanissime hanno cercato di dissentire contro il proprio governo, quello di Putin, della Russia, dittatrice di Putin, e che hanno manifestato dentro una chiesa e hanno avuto per questo due anni di condanna in carcere. Noi siamo assolutamente solidari con le Pussy Riot e per questo cercheremo e lotteremo anche con loro e per loro. PASSA! Adesso passa con le 99 donne a fido!